ragazzi sono mocio ed oggi sono a new york per il primo giorno di questo fantastico tour che mi porterà in giro per gli states quale meta migliore se non new york per iniziare un viaggio fantastico io vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare le notifiche la campanellina per non perdervi neanche uno dei prossimi video qui dagli states e oggi si inizia la grande con una colazione veramente tricky mi trovo a so nella parte bassa di manhattan e mi sto dirigendo da domini cancel bakery un pastor chef francese che è diventato super popolare qui a new york ma non solo a dire la verità in tutti gli states per alcuna invenzione veramente pazzesca allora iniziamo dal cookie shot vedete questo bicchierino fatto di biscotto che viene riempito con il latte dopo che si beve e si mangia domini cancel diventato proprio famoso grazie a queste subvenzioni come il cronat che è il più famoso ma anche questo di shot che sta perdendo la sotto perché devo muovermi oh mio mamma mia ho mangiato da sotto guardatelo qua buonissimo perché il latte prende totalmente il sapore del biscotto al cioccolato tanto dentro è pieno anche di crema al cioccolato e la consistenza di cucchieretta è bella morbida il sapore è meraviglioso bello non molto funzionale perché comunque va bevuto subito ma veramente buono veramente figo mentre assapora il mio caffè freddo vi presento la seconda invenzione del nostro domini che è un frozen s'more ora devo capire bene com'è strutturato perché all'esterno è marshmallow tra l'altro perfettamente caramellato caramellizzato bellissimo presuppongo che all'interno ti avrò il cioccolato biscotto ma perché è frozen poi? vediamo guarda raga mamma mia oh mamma mia praticamente è un gelato ricoperto di marshmallow ma dentro eh a parte che è pienso totalmente ricoperto di miele perché non c'è solo il sapore del marshmallow ma c'è proprio tutto il sapore di miele interno gelato cioccolato biscotto chicca pazzesca in pieno camping style che lo s'more viene servito sul ramo ma veniamo alla vera invenzione del nostro chef nostro pastry chef anzi che è il cronat invenzione che ha cambiato per sempre la sua vita facendo diventare uno dei pastry chef più famosi qui negli states e non solo il cronat ragazzi è una via di mezzo tra un donuts e un croissant quindi è una ciambella con un impasto sfogliato ogni mese c'è una specialità e questo mese è blueberry and sweet corn se non erro quindi mirtilli e mais dolce quindi mi aspetto un ripieno proprio con il nostro fantastico sweet corn vado da prima ma che cos'è pazzesca allora l'impasto è veramente una via di mezzo perché mantiene un po' di quella consistenza chewy del donuts però ha questo senso di sfogliato di brioche che lo rende forse un pochino più leggero qui ragazzi il ripieno è composta di mirtilli allo status quo ma guardate che roba con questa salsina cremina molto dolce che crea un po' di contrasto con l'acidità del mirtillo pazzesco il cronat cosa c'è di meglio dopo la colazione un pochino di shopping sono a due passi da Kit uno dei miei negozi preferiti qui a New York andiamo a comprare qualcosa devo prendere una cintura poi vorrei prendere delle scarpe, qualcosa, maglietti che bello Kit raga vabbè andiamo a vedere se c'è qualcosa di carino dai che bello comunque di fronte al Kit c'è l'Event allora ragazzi siamo da l'Event ci sono già stato qui, vi avevo già contato ma sono venuto perché arrivando ho notato che avevo una limited edition allo s'more ovviamente si tratta di una limited di luglio classica per il 4 luglio potremmo non assaggiarla classico biscotto devastante consistenza fuori croccante dentro morbida in questo caso ovviamente ci saranno i marshmallow oh mamma mia assurdo bellissimo con anacardi sembrano bellissimo marshmallow e cioccolato io penso sia il biscotto parli in generale dei biscotti d'Event il biscotto più buono che ho mai mangiato nella mia vita è pazzesco è umido all'interno pieno di gusto e la crocantezza esterna che contrasta con questa morbidezza e fa letteralmente impazzire allora raga totalmente a caso sono finito nel negozio di cookies più pazzo di New York ora vi faccio vedere cosa hanno perché le hanno fatte bastante oltre ad avere ovviamente i cookies quelli fighi hanno tutti questi cookies a forma di cose più o meno tipiche purtroppo quello è i love New York con la pizza sold out ma 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 vi faccio vedere cosa ho preso ce ne sono alcuni che sono clamoromani ah vabbè future meal allora vi faccio vedere cosa prendo io fries before guys ragazzi un classico cioè le patatine praticamente sopra e basta vabbè lo mangio sessione di shopping pochino devastante mi è venuta fame perché mi sono alleggerito parecchio per cui ho deciso che vado a fare un giretto a Chinatown a mangiare un po' di dumpling sembra veramente di stare in uno dei quartieri di Shanghai mi giuro è pieno di ristorantini la difficoltà qui è scegliere quelli giusti ma state qui perché vi portano un paio di posti di quelli allora ragazzi siamo arrivati nel primo posto che è Shujao è all'angolo tra Elridge e Grand Street lo beccate è mega anonimo cioè la difficoltà è un po' questa perché sono un po' nascosti questi posti non dovete andare in quelli troppo pettinati perché qui ad esempio fanno i dumplings fatti a mano davanti a voi no dumplings surgelati si mangiano bene anche i noodles adesso entriamo e mangiamo qualcosa insomma dai allora raga 14 dollari e mi è arrivato un botto di roba perché ogni posto dei dumplings sono tipo 10 dumplings più un piatto di noodles allora metto un po' di salsa di soia e anche un pochino di sriraccio perché sapete che il piccantino ci sta sempre ho preso i dumplings pork and cabbage che sono i classiconi ma anche dei chicken and mushroom più dei noodles con il peanut butter un po' una roba orientaleggiata e partirei appunto dai noodles che sono delle tagliatelline in questo caso con un sughetto che sa di arachidi in una maniera pazzesca cioè del cipollotto ma sai che quasi quasi anche qui io ci darei di voilà piccantino mischiatina propiziatoria l'odore di arachidi raga è devastante guardali qua voi sapete come si mangiano i noodles super delicati la pasta è morbidissima il sapore di arachidi in realtà sentendo l'odore pensavo fosse più forte invece è molto delicato sta benissimo con quel piccantino che ho messo insieme alla salsa di soia c'è anche dentro già nel condimento una sorta di acetino quello che usano loro un aceto molto leggero veramente buono un piatto semplice raga ma ben studiato bel colpo di sapore ora invece andiamo con i dumplings allora questi sono quelli di maiale raga con il mio bel cabbage che tra l'altro è tagliato molto sottile in realtà e non è cotto ma viene cotto col vapore quindi rimane leggermente croccante e non so come dire preserva un po' di sapore proprio verde io lo definirei così è la pasta molto buona non troppo spessa ravioli ve lo posso garantire come se fossimo in Cina pazzeschi veniamo a quelle di pollo in questo caso pollo e mushroom stessa qualità stessa fattura si sente proprio sono fratelli ma qui c'è un po' quel sapone di funghetto che a me in realtà fa impazzire un mega fan soprattutto dei funghi shiitake ma anche di funghi usano dei funghi un po' strani in Cina sono dei funghi molto piccoli con un sapore abbastanza delicato un maifo anche qui l'equilibrio da spesso alla carne ripieno eccetera eccetera veramente secondo me perfetto non ovviamente i ravioli della vita raga ma una porzione degli ravioli in questo caso costa quattro dollari tre dollari e vi assicuro che hanno un livello veramente alto vabbè vabbè super soddisfatto ragazzi c'è un po' stricino di quelli veramente easy facili buoni soddisfacenti sono proprio felice proprio felice ma 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 voglio portarvi in un altro paradiso dei dumpling specializzato in quelli fritti per cui andiamo da fried dumplings mai nome più esplicativo su mot street da quella parte lì qui ovviamente te li servono pronti da portare via oppure te li poi te li danno congelati da portare a casa 15 pezzi 5 dollari questo una vetrina super anonima dentro ci sono due vecchie scorbutiche che ci sta anche sul cazzo se entrate rompe di coglioni che stanno facendo i dumplings tutto il giorno te li servono sia da mangiare al momento fritti oppure ve li potete portati via congelati le chopsticks non le aveva mi ha detto no non le ho vaffanculo mamma mia bellissimi devo dire la tizia li stava facendo ancora a mano tuttora e sono fried nel senso che sono brasati eh mi raccomando qui la pasta è un po' più dura ma si sente tantissimo il fatto che sono fatti a mano soprattutto nella pasta ma anche nel ripieno che ha un gusto super interessante è più sminuzzato rispetto a quelli che ho mangiato prima ma anche qui nonostante non siano dei locali belli il cibo non fa schifo anzi è di un livello che non matcha con la qualità visiva del locale e a me questa roba lo sapete mi fa pazzire ovviamente non posso mancare tutta la serie di cozzetti che vendono verdura pazzesca ma anche l'ana tra la pechinese alle mie spalle ragazzi Little Italy anche se c'è da dire che ormai vedi si lamentano anche loro non è più la Little Italy una volta ma ma consiglio per gli amici Hypebeast se siete a Chinatown e capitate in zona girettino da Unicab Collection che sapete regala bombette bellissimo perché è un sottoscala fantastico ma 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 di roba ne ha niente double XL per cui ho rinunciato l'idea di prendermi qualche t-shirt ma questo caldo mi sta ammazzando per cui dopo il cibo cinese cosa c'è di meglio di un bel gelatino e oggi vi porto da Morgenstern una delle gelaterie più devastanti di tutta New York se va bene ci pigliamo una bella banana split giustamente raga non è che sono stato l'unico ad avere l'idea di venire qui a mangiare gelato per cui c'è una coda devastante mi sa che mi prendo una coppettina gelato e ce la mangiamo al volo devo scegliere i gusti è una gelateria che nasce nel 2014 da Nicolas Morgenstern che dopo un paio di esperienze come pastry chef in giro per New York decide di aprire la sua gelateria con l'idea ben precisa di portare la sua idea la sua concezione di gelato in giro per tutta la city e ci riesce devo dire bene tanto che apre altri tre punti venita in tutta New York e io ne sono venuto in conoscenza forse vi ricorderete qualche anno fa la collab tra Action Bronson e proprio Morgenstern che aveva creato dei gelati personalizzati le collaborazioni con l'artista ad esempio sono quelle che secondo me danno quel qualcosa in più a posti come questi che già fanno della alta qualità comunque del gelato il loro punto di forza secondo me fa fare lo stefato l'altro negozio all'interno è bellissimo con le piastrelline bianche e nere mega minimal bello 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 hanno anche inserito un menù di cibo burgers and fries ora non le assaggerò perché sono leggermente pienino ma mi piacerebbe tanto l'altra volta bellissimo tra l'altro è uno dei pochi posti che fa il gelato alla banana addirittura in tre gusti per cui l'ho preso ho preso banoffi che è un misto toffee banana poi coconut guava per un tocco di freschezza tropicale e bubble gum che era uno dei grandi classici americani orazione bella generosa andiamo a vedere mamma mia allora bubble gum ragazzi con anche la cicca sopra è un gelato base vaniglia ma che ha proprio il sapore delle cicca quelle del distributore non sapreste definirlo aroma di limone voi sapete che le caramelle lì ha un sapore di zucchero limone e cose così molto strana la sensazione è proprio quella di caramella cicca del distributore macerato strano coconut guava colorino strano derivato dal guava sicuramente ovviamente ha la dolcezza mmm strana perché c'è il gusto di poco che si scontra un pochino con l'acidità del guava quindi è un mix un po' che ti lascia stranito unire cocco e un sapore così acido è una sensazione strana non lo so mi sta lasciando per presso devo andare avanti a assaggiare ma veniamo io ho il panoffi mamma mia sono un babbo perché ho preso drunk e monkey quindi ancora di più infatti ho sentito la botta di alcol ed è perché è un gelato da banana con nocciolina e caramello e rum e barbo quindi non è il banoffi è il drunken monkey nocciolina pazzesca che danno un po' di cranci ma il retro gusto di alcol del gusto della banana per me è una roba pazza molto buono mi ha lasciato stranito il guava e il coconut però lo sapevo che era un rischio il bubblegum è un gusto secondo me che va provato ragazzi ma il drunken monkey diecima di su raga adesso si torna in hotel ricarico le camere e ricarico un po' me stesso con un pisolino però devo dire che fuso per ora tutto ok faccio una ricerca su dove andare a mangiare questa sera perché voglio andare a mangiare un hamburgerino che ancora non vi ho fatto vedere sono indeciso tra qualche posto ci vediamo dopo post pisolino devastato dal fuso orario ragazzi in realtà ma ho preso in mano la mia vita le mie forze per uscire a mangiare un hamburgerino da 7th street burger una hamburgeria un po' in stile secondo me come possiamo definirlo uno di quelli nuovi un po' come quelli che ho visto a los angeles con pochi panini solo quattro cose a menù fanno uno smash burger con martin potato roll abbastanza new wave ma ne parlano tutti molto molto bene c'è sempre la fila eccetera 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 andiamo ad assaggiare 7th street burger allora ragazzi format mega semplice fanno soltanto praticamente un panino che è il cheeseburger singolo o double fries e la versione impossible da belle coca acqua quello che volete super semplice ci si mette in fila 10 minuti ci servono e si mangia fuori non ci sono neanche i tavolini scelta bella tutti i panini vengono con letteralmente formaggio cipolle piastrate e pickles superissimo sacchettino old school hamburgerino old school mega pieno di grasso che è un buon segnale vuol dire che la carne è bella juicy wow 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 martin potato roll formaggio cipolle salsa della casa e cetrioli sapete quei sapori veri quando pensate al cheeseburger questa roba è pazzesca direttamente dalla bocca al cuore semplicissimo la salsa vende tanto sulla maio devo dire non c'è quella nota di senape eccetera cipolle che danno leggermente un po' di frescazza perché sono leggermente grigliate ma non del tutto sono ancora un po' crudele vedete qua cetriolino carne veramente di livello sapore esagerato formaggio che va a legare tutto il pane che ha assorbito praticamente tutto il grasso della carne è pazzesco veramente vero un cheeseburger vero come ne ho mangiati pochi a completare tutto rice non mi sono andati hanno detto questo leggermente amarogno che non mi fa impazzire bella la cottura ma non lo so non mi hanno entusiasmato quanto se ne prendo raga era una bomba non ho dovuto prendere un altro stavo ragionando proprio su questa cosa pur essendo così semplice e quando secondo me i panini sono così semplici devono veramente esploderti dentro in botta e questo lo fa cioè questo ti dà una ragione per volerne ancora e una ragione per apprezzarlo nonostante i quattro ingredienti anche non sulla carta eccezionale perché il martine sempre lo stesso lo sapete in questo momento sono un po' contro i panini tutti uguali ma vi dico che questo ha un'anima che è grande così bravi ragazzi bravi super felice ragazzi della scelta dell'hamburger veramente mi ha stupito mi ha colpito finalmente un burger con qualcosa da dire porca vacca con una personalità spiccata bravi 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 siccome ieri sera ci sono rimasto male si va da Magnolia Bakery per il mio banana pudding New York è casa non ero mai stato ragazzi a New York d'estate ed è pieno di gente è bello vedere la città così viva anche d'estate i locali sono strapieni la gente in giro tutta a bere a divertirsi eccetera 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 era veramente un'altra storia rispetto a novembre dove le cose erano sicuramente più difficili e sono molto contento di vedere la città così viva ovviamente è murata di gente ragazzi ma io la vera è che c'è sempre la fila nei posti figli a New York per cui non spaventatevi per questo adesso aspettiamo un attimo che defluisca poi si entra prendiamo il banana pudding e si avviene lo spaccotuto ciao allora il mood raga è proprio quello di una pasticceria casalinga sembra di essere la casa della nonna con tutti i dolcetti tutti ci sono le alzatine con le torte adesso avete quelle a mille strade mille piante ma è tutto molto bello ti fa sentire tranquillo tutto mi fa sentire tranquillo il fatto che ho appena controllato e c'è il banana pudding finalmente ragazzi riesco a farvelo vedere dopo un paio di sfiga anche con Efron ce l'avremmo perso questo è il banana pudding di Magnolia becchio devo paragonarvelo a un tiramisu ma vi giuro che non c'entra niente perchè le consistenze sono totalmente diverse ci sono i pezzi di banana ci sono i biscotti Nilla che sono proprio questi biscotti che vanno a umidirsi totalmente che paragono del steam ed è tutto mischiato come se fosse non so come definire un crumble non ci sono dei layer degli strati ben precisi è tutto mischiato c'è questa crema alla banana fantastica dappertutto e dalla panna montata che crea un sapore una consistenza che per me è unica una di quelle cose che proprio hanno il loro sapore non hanno la loro idea ben definita non possono essere sostituite con nientà in modo migliore per chiudere questa giornata a Manhattan e basta ragazzi io vi ringrazio per essere state con me in questa giornata dove vi vi ho portato un pass passo per Manhattan vi ho fatto vedere qualche chicchetta nuova che ancora non vi avevo portato ci vediamo nel prossimo video ragazzi con un tour di Brooklyn dove mi potrò mangiare della pizza del soul food e qualcosa che ancora non vi svelo vi ringrazio per essere stati con me seguite amici in instagram sono mochacuff from the east coast to the west coast macho macho gotta go posso farvi finalmente vedere la burrata è diciamo una burger old school voglio capire se la glassa è proprio il gusto di pompo altro pezzo forte della casa una sorta di chicken parm peccato che sia tutto così schiacciato allora ho scelto la mango abanero ragazzi la salsa miga piccante un'altra un'altra